Chiaramente adesso ha ricevuto la fiducia nuovamente dei suoi cittadini, una responsabilità quindi i prossimi cinque anni che ovviamente la metteranno alla prova, appunto tenendo conto anche di questa rinnovata fiducia da parte dei coloniesi. Sì, non vedo l'ora, è una passione a questi livelli fare amministrazione, quindi benvenga questo impegno per i prossimi cinque anni. La colonia è il paese che amo, la cittadina che amo e che vivo e che spero di riuscire effettivamente a migliorare. Io poi sono per le rivoluzioni, credo nel lavoro quotidiano, nella gocciolina al giorno che poi alla fine ti riempie il vaso, ti sazia e ti fa star bene. Grazie sindaco, lo lasciamo pensare a come festeggiare stasera allora, va bene? Va bene, adesso ci penso, buonasera. Grazie. Buonasera, grazie, grazie, grazie.